Beh, intanto grazie, è un piacere essere qui, conoscerla e fare questa chiacchierata insieme. Noi non ci conosciamo, anzi ci siamo conosciuti pochi minuti fa, ci hanno piazzati qui a fare questa chiacchierata. Però io volevo dirle una cosa, ovviamente io so molte cose su di lei, lei probabilmente sa ben poco di me. E una cosa per me molto importante che anche mi definisce è che io nel corso di quello che è stato il mio percorso, il mio vissuto, a un certo punto ho incontrato il buddismo, non come religione, ma diciamo come filosofia di vita, come modo di stare al mondo. E la prima volta che mi parlarono del buddismo fu proprio un monaco buddista e mi raccontò la storia del Buddha. E arrivò un momento all'interno di quella storia in cui mi venne in mente lei, una cosa che avevo sentito dire da lei, esatto. Io mi trovavo a Bangkok in Thailandia, ero in questo tempio e questo monaco mi raccontava di questo principe nato in Nepal 2500 anni fa che aveva una storia molto particolare, cioè il padre che era uno dei più grandi regnanti di quel continente non riusciva a mettere al mondo un erede, lui e la regina non riuscivano ad avere un figlio. Quando finalmente questo figlio nasce, chiamano a corte tutti i bramini, che erano appunto un po' i sacerdoti, coloro che erano in grado di vedere, di interpretare il passato, il presente, di vedere nel futuro. E uno di questi bramini fece una profezia, disse al padre di Siddhartha, «Tuo figlio diventerà il più grande regnante di tutti i tempi, oppure una guida spirituale». E la prospettiva che suo figlio non prendesse in eredità il regno e quindi che seguisse una strada spirituale spaventò così tanto il padre di Siddhartha che costui decise, si ritirò a riflettere su quale fosse la soluzione ideale per far sì che il figlio non lasciasse mai il regno, non se ne andasse mai. E ragionò come ragionano molti genitori, cioè disse che cosa posso fare affinché mio figlio non si allontani da me, stia qui con me, elimino ogni forma di sofferenza dalla sua vita. Quindi lui prese questo bambino e lo crebbe finché diventò ragazzo, finché arrivò ad avere 29 anni, all'interno di un contesto ovattato in cui non c'erano persone anziane, non c'erano morti, non c'era malattia, c'era solo il piacere più estremo, quindi Siddhartha aveva accesso a cibi di ogni tipo, tutti i suoi desideri erano espressi, anche i desideri sessuali, e il padre credeva, dando tutto questo a mio figlio, mio figlio non se ne vorrà mai andare. Cosa succede? Che quando arriva a compiere 29 anni, Siddhartha ha un solo desiderio, e cioè lasciare il palazzo reale, andare a vedere che cosa c'è là fuori. E una notte riesce finalmente a scappare, per quanto sia accompagnato da altre guardie che avevano cercato su ordine del padre di sistemare la cittadina intorno e quindi eliminare tutti i vecchi, le brutture del mondo eliminate, c'erano solo giovani di bella presenza, lui qualcosa non funziona in questo piano e il giovane Siddhartha vede prima una persona malata, poi una persona anziana e poi un morto, e questo è uno sconvolgimento tale, rendersi conto che la vita è sofferenza, e non è piacere, non è la vita illusoria che ha vissuto, è uno sconvolgimento tale che lui rientra nel palazzo, il padre gli aveva fatto preparare un vero e proprio banchetto, diciamo così, carnale di donne disposte a soddisfare in ogni modo, ma lui non è più interessato. Lui vuole solo lasciare quel palazzo reale, lasciare quella vita fatta di piaceri, e andare a cercare la sofferenza, perché pensa evidentemente il senso della vita è lì. E io quando ho sentito queste parole, ho pensato a lei, e a questo messaggio che lei condivide, e che credo sia importantissimo da molti anni ormai, del fatto che troppe volte si crede di voler bene ai nostri figli, proteggendoli dalla sofferenza, proteggendoli dalle sfide, cercando di accontentarli in tutto. C'è una frase che lei ha detto che mi ha colpito molto, raccontava di questa madre che, in riferimento al figlio, diceva non capisco perché adesso è così quando io gli ho dato tutto, e il problema era proprio avergli dato tutto. Ed è esattamente la storia di colui che poi divenne il Buddha. Grazie. Lei non può sapere che la mia vita professionale, non esattamente, ma è quasi nata da quelle parti. Nel senso che io ero molto giovane, ero un giovane medico che lavorava in un ospedale psichiatrico, e senza sapere che cosa mi stavano offrendo, io ho sempre imparato a dire di sì a tutto. Perché i no ci pensi dopo, ma se lo dici prima ti privi delle cose, diventi omissivo. E quindi io avevo detto perché no ad un signore che non sapeva neanche chi fosse, in realtà era il capo della divisione della salute mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il quale mi offriva di far parte di questo studio, che è stato il più grande studio sulla schizofrenia che è stato fatto, e una delle prime tappe fu l'India, esattamente a Chandigarh. Chandigarh è vicino, è attaccato all'Himalaya nella parte che confina direttamente con la Cina, quindi è anche molto pericoloso per questioni anche belliche. In che anni era questo? Questo era negli anni 70, alla fine degli anni 70. Beh, coraggioso in effetti andare in India negli anni 70. A me non me ne fregava niente. Non ho mai pensato ai chilometri, non ho mai pensato a che cosa lasciavo. In realtà non sapevo neanche cosa esattamente stavo facendo, ma la cosa mi interessava di per sé. Per me prendere un aereo era eccitante di per sé. Io ho avuto la fortuna di essere un provinciale, nato nella provincia, quindi qualsiasi cosa che sapeva di non provinciale per me era straordinario. Per quello che io da ragazzino, adolescente, sono stato a Londra, quando Londra era Londra, su Inghilandola, quando c'erano le minigonne, mai visto una minigonne, in vita mia è stata una rivoluzione. Negli anni 60, quindi? Quella era negli anni 60. Eh, possiamo immaginare un mondo che non resiste più. Sì, quando i Beatles erano i Beatles, i Rolling Stones anche. Ma la cosa che volevo raccontarvi è che vicino, ovviamente come lei saprà, l'India fa molto caldo. L'unico posto dove così ci si poteva un po' rinfrescare, era una specie di piccola collina, montagna, che mi avevano indicato, perché era una bellissima passeggiata, sopra la quale c'era un tempio hindù, vecchissimo. E ho detto, guarda, se vai là c'è una bella passeggiata, dura un po', però poi arrivi lì. Stai attento però, perché ci sono le scimmie. E quindi non tenerti mai niente nelle tasche, perché loro da dove sono si buttano, sono grandi. E quindi ero andato su, ero andato al tempio, bellissimo. Effettivamente ce n'erano centinaia, erano ovunque. Poi, siccome stava cadendo il sole, mi sono affrettato, perché non volevo farla di notte, quella strada, e ho visto che tutte le scimmie andavano, era tramonto, tutte in una certa direzione. Erano tutte sopra di me, negli alberi, boom, 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 boom. E quindi sono andato a vedere dove diavolo andassero tutte queste scimmie, come se fossero attirate da un'unica meta. E effettivamente c'era una radura, c'era il capio scimmione davanti, tutte le altre scimmie sedute dietro, guardavano il sole che cadevano e piangevano. Mamma mia, davvero. E io non sapevo che le scimmie potessero piangere. Incredibile. E allora ti fai una domanda, no? Cioè, chi siamo noi, umani, che non piangiamo mai, che siamo così gradassi, che siamo così arroganti? Effettivamente era successa una tragedia. Era finito un giorno. E quello lì non te lo ridà più nessuno, quel giorno lì, no? Bellissimo. E quindi è vero che a tramonto dovremmo essere tutti tristi per qualcosa. Ecco, io ero, ripeto, molto giovane, molto vuoto in cerca di qualche nutrimento. E quindi questa è stata la cosa che mi ha anche cambiato, perché credo che noi due abbiamo delle cifre in comune, che sono i viaggi, che sono le scoperte, che sono la curiosità per l'altro, per tutto quello che è altro, dalla frutta alle persone, all'idea del potere diverso. Quella cosa che ha raccontato della morte è fondamentale, io credo. Cioè, ma non per la retorica del dolore che ti redime, al cui io non l'ho mai creduto. Neanche io, esatto, nel sacrificio fino a se stesso. Non c'è niente di cui dobbiamo essere redenti. Io credo che invece sia straordinaria l'idea che ognuno di noi ha un limite, in qualche modo, e lo vede riflesso nell'idea della morte, che poi è metaforica, che sono i nostri inciampi quotidiani. Io ho saputo che anche lei ha avuto un inciampo, una malattia, la paura di morire. Io sono andato in coma, ho fatto incidenti ovunque. Ah sì? Sì, sì, sì. Questa parte di lei non la sapeva. Sì, sono andato la prima volta, il primo luglio del 69. Ah, quindi era molto giovane. Con la 500 di mia mamma, sì, ho fatto un incidente pazzesco. Mi sono spaccato qua dietro. Però è stata una bella fortuna, sa? Perché rispetti più la vita dopo. È verissimo questa crisi. Perché se no, sembra proprio come il giovane Siddhartha che sta lì dentro, non conosce la morte e quindi non conosce neanche la vita. Non conosce niente. Quel papà era un imbecille. Era un totale... Quando io ho sentito questa storia ho pensato proprio a lei, perché lei sottolinea molto questa cosa, che penso sia vera. Cioè, se dai tutto a un bambino, quel bambino crescerà non apprezzando nulla. Mentre invece, se tu sei in grado di trovare quel giusto equilibrio, il bambino poi sa apprezzare, ma soprattutto sviluppa dentro di sé quella fame di mondo, forse, che ci accomuna, ci accomunava. Perché se lei è partito così giovane per l'India negli anni 70, evidentemente aveva una fame di mondo che doveva essere in qualche modo espressa, realizzata. Sì, però quando si parte, credo che lei lo sa più a memoria, quando si parte si lascia. E questo è molto importante, lasciarsi. Noi viviamo una cultura della conquista. La conquista, non so, del vestito, piuttosto che della cena. C'è una conquista, no? E non calcoli mai invece quello che perdi andando. Io c'avevo buoni motivi per non andare in India. C'avevo una ragazza, c'avevo gli amici, c'avevo queste robe qui, ciao. Perché non è che... All'epoca, senza i cellulari, internet... All'epoca, sì, ciao... Eri proprio sparito. Ah beh, sempre. Se partivi eri sparito. Ma passavi anche per essere quello strano, no? Perché lasci le cose certe. Io avevo cominciato, diciamo così, a fare una carriera tradizionale. Però sono gli insuccessi che io ho sempre cercato. Secondo me il viaggio, un po' come il gioco, no? Ti insegna a perdere. Sì. Perché il viaggio, se lo fai, non ti riesce bene. No, esatto. Non è una linea retta. No, no, ma no. No, ma non è. Adesso mi fa ridere questa cosa dei bambini che gli danno queste, no, pencil da computer. Che se tu fai una riga un po' incerta, dopo mezzo secondo diventa dritta, no? Che è la pedagogia della perfezione. Che è la cosa peggiore che si possa... Esatto, ma è proprio questo il tema che trovo più attuale. Anche se lei è da tantissimi anni che lo porta, però sembra che... Eh, ma io sono vecchio. No, ma non per quello, lo dico perché sembra che, nonostante sia qualcosa che un po' tutti riconoscono, perché poi è anche difficile dire non ha ragione quando lei dice queste cose, cioè è difficile argomentare una risposta contraria, però sembra che la società si stia muovendo proprio in un'altra direzione, che è quella del padre del Buddha, cioè del cercare di rendere le cose facili. Però lei che invece è giovane, differentemente da me, ha voluto far questo. Ma io... Perché se no stava a casa sua, andava al baretto con gli amici, no? Certo, è vero. Nessuno avrebbe criticato, no? Certo, è vero. Invece bisogna criticare chi va al baretto con gli amici. Sì, 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 non bisogna ristagnare troppo in quello che conosciamo. Ma certo. Io ho sempre avuto un po' questa fame di mondo, questa chiamata, no? Quasi come se sentissi che c'erano dei luoghi nel mondo che mi stavano chiamando. E quindi da un lato mi veniva anche da dire, io sono qua a trascorrere i miei vent'anni in una città in cui sono nato e cresciuto, in cui potrò tornare sempre, perché tanto questa è casa. E sono qua a vivere questa vita perché alla fine potevo raccontare mille storie, ma era la scelta meno rischiosa. È quello che non c'è, è la propensione al rischio. Prima lei ha detto giocare. Ma tu non puoi giocare se non accetti che potresti anche perdere. E infatti anche attraverso quelli che sono i miei libri, i contenuti che condivido, cerco soprattutto rivolgendomi ai giovani, ma anche ai meno giovani, di normalizzare un po' il fallimento, tra virgolette, più che fallimento la caduta, l'errore, perché è solo così che cresci. Se non metti in conto di poterti fare del male, certo non sbagli perché non stai giocando. E credo che sia purtroppo molto comune al giorno d'oggi, nonostante sia diventato più facile fare tutto, viaggiare, fare esperienze all'estero, eppure c'è tanta paura di mettersi, diciamo così, di sfidarsi. E più andiamo avanti, più mi sembra che si cerchi sempre di trasmettere il messaggio che la strada giusta è quella facile. Mentre io mi sono reso conto nella vita che le cose belle spesso sono semplici, ma quasi mai sono facili. Perché le cose facili non ti fanno crescere. E mi interessava sapere anche una sua opinione su questo. No, penso che bisogna... Soprattutto sulla società al giorno d'oggi. Allora io non so cosa voglia fare la gente, francamente non mi interessa molto, però credo che sia essenziale essere spregiudicati. Credo che sia una delle cose... Ma sì, se lo sei da molto giovane lo diventerai anche da vecchio. Ok, mantieni l'abitudine. Ma sicuro, anche se magari gli impedimenti ci sono. Io faccio più fatica a prendere i treni di 40 anni fa che di scorsi, sarebbe anche mostruoso il contrario. Però io mi ricordo una volta ero a Trivandrum, che è l'estremo sud dell'India. Mi avevano dato un albergo, chiamarlo albergo era veramente un complimento. E ho sentito del rumore dentro l'armadio, nella mia camera da letto. Per fortuna che ho aperto appena c'era un cobra. Se lo fa un ragazzo di oggi, la sola idea che c'hai un cobra nell'armadio ti fa impazzire. Invece io ho chiamato il ragazzo che stava lì, ragazzo ero io, ragazzo era ragazzo anche lui. Io gli ho detto, per fortuna mi cambi la stanza, perché magari con il cobra non dormo bene. Però era talmente euforico, la conquista, le cose, che anche un cobra dentro un armadio può essere un rischio calcolabile in qualche modo. Perché fa parte di quella scommessa che hai fatto quando magari il tuo padre ti ha portato all'aeroporto, ti ha salutato senza sapere quando tornavi. E ti sei assunto la responsabilità di dire, ho scelto di giocare, adesso mi metto in gioco, quindi vado avanti poi, anche se succedono queste cose. Ma poi questa cosa di diventare drogato degli appuntamenti, cioè che hai bisogno di un appuntamento, non necessariamente con le persone, hai bisogno di un appuntamento a vedere, non so, come è quella città, com'è quella musica, com'è quella gente, non so, io penso che sia totalmente incredibile perché lo fai tu. Esatto. Ma tu non potresti mai scrivere i libri che fai. Esattamente, esattamente. Se ecco cosa, ti metti un visore della Apple, te lo metti lì, ecco, le scrivi. Beh, infatti è proprio questo il punto, secondo me questo è il punto, è il motivo per cui al giorno d'oggi le persone, un ragazzo che magari ha anche quel richiamo, ha anche quella fame di ignoto, non parte e non va in India. Perché? Perché secondo me al giorno d'oggi siamo sovrastimolati, iperstimolati, e quindi io dal cellulare vedo uno che è in India, che apre l'armadio e trova il cobra. Quindi quando io lo vedo, si crea subito quella paura di una cosa che ho già vissuto come fosse un'esperienza di seconda mano. Magari se a lei da giovane avessero raccontato che sono andato in India, ho trovato un cobra nell'armadio, magari avrebbe detto non so, bisogna mantenere una sorta di fascino anche verso l'ignoto, ma al giorno d'oggi è difficile perché io tiro fuori il cellulare e mi trovo contenuti di persone che si trovano dall'altra parte del mondo, vedo luoghi che non visiterò mai, e tutto questo toglie quel valore che c'è solo nell'esperienza diretta. Noi oggi crediamo di conoscere il mondo attraverso uno schermo. E quella è un po' la tragedia. Sì, no, ma quello sa. Ognuno poi fa quello che vuole, l'importante è non lamentarsi. Se uno vuole stare a casa tutta la sua vita, a guardarsi i tramonti attraverso uno schermo, può anche farlo. L'importante è che dopo non arrivi alla mia età, dire peccato, che avrei voluto, mi sarebbe piaciuto. Però è molto comune. No, quello è insopportabile. Ma infatti noi abbiamo un altro punto in comune, secondo me. Cioè, lei fa delle cose che tutti guardano e nessuno fa. Io dico delle cose, scrivo delle cose, che tutti applaudono e la mattina dopo rifanno come prima. Noi siamo degli eroi dell'opposto. Ma secondo lei perché è questo? Ma perché siamo dei miserabili nella testa. Cioè, una volta il miserabile era il poveraccio che chiedeva l'elemosina sul sagrato di una chiesa. Quello lo chiamavamo miserabile. Adesso il miserabile è quello che va a mangiarsi il pesce tutte le sede da qualche parte. Che pensa con la Lamborghini, che fai sentire al mondo che c'è la Lamborghini, con la ragazza che è uguale a tutte le altre ragazze, tu sei uguale a tutti gli altri ragazzi, gli stessi tatuaggi, il stesso Jim Fitz. Ma che vita è da miserabili? Capisco. È una vita da miserabile perché la ricchezza è nell'inaudito. È quello che non potreste neanche... Io che ne so che cosa succede se vai a vederti una città, adesso senza andare a Trivandrum in mezzo all'altro mondo, ma la stessa cosa succede a New York, ma perché non ci vai a New York? Ma può darsi che incontri un tassista, anzi è sicuro, che ti racconta la sua storia, perché magari viene da chissà quale parte del mondo, si guadagna quattro soldi portando la gente in giro e ne sa più di me che faccio lo psichiatra da tanti anni, perché più psichiatri di loro non esistono, perché hanno visto le cose del mondo. È verissimo. Il racconto, tu racconti, ma secondo me tu racconti le cose che ti sono state raccontate dalle cose, dalle persone, dai luoghi, dai colori. Ma in fondo perché secondo me viaggiare è quello, non è andare nel mondo a lasciare tracce, lasciarne il meno possibile, cioè andare nel mondo a osservare, ad ascoltare e poi eventualmente a condividere. Però appunto quello che ha detto sul tassista è vero, ma la gente non lo fa perché dice queste cose le posso trovare, secondo me è così, su internet. È una cosa che io noto, è una tendenza che eccede molto forte, le faccio un esempio. Io in un mio libro ho raccontato che a un certo punto, proprio in seguito a questo periodo molto buio che ho avuto, in cui letteralmente si è spenta la luce nella mia vita, ed esternamente tutto era perfetto, quindi io ero anche confuso, non sapevo proprio come agire, ero anche disperato perché quando intorno a te non c'è più nulla da aggiungere e stai male, allora devi fare un viaggio diverso dentro di te. Sono andato alla fine attraverso una serie di circostanze, mi sono ritrovato a conoscere un maestro zen, quindi il buddismo giapponese di origine cinese, nel nord della Thailandia. E ho raccontato questa esperienza in un mio libro di come questo maestro, che era una persona molto rigida anche, era anche molto dura nelle risposte che mi dava, forse perché era anche un po' stufo di avere l'ennesimo occidentale che ha tutto e non si rende conto e si lamentava di tutto, nonostante non gli manchi nulla. Ho raccontato di questa esperienza, di quanto sia stata fondamentale per me, anche poi per quello che è stato il mio processo di guarigione, di consapevolezza, di nuova consapevolezza, mi è capitato recentemente, mi ha colpito tantissimo, che una persona mi ha scritto tu sei andato fino in Thailandia per parlare con questo monaco e io ho il mio monaco virtuale. Mi ha mandato uno screenshot di ChatGPT, che so che lei conosce, questo strumento dell'intelligenza artificiale, a cui chiedeva dammi un consiglio zen e di là rispondeva dando un consiglio che era anche valido, ma quello che ho cercato di spiegare a questa persona, la conoscenza, l'esperienza di vita è a 360 gradi, cioè l'odore che io sentivo di incenso in quel tempio, il sapore del tè verde che il tè mi offriva, il suo sguardo nei miei occhi, il modo in cui il mio corpo percepiva quello che lui diceva al di là delle parole, è qualcosa che non è replicabile, ma sembra che al giorno d'oggi molte persone si accontentino di questo, salvo poi ritrovarsi anni dopo a chiedersi perché la mia vita non è una buona vita. Sì, però l'unica cosa che noi possiamo fare, escludendo quella di essere disperati per come sta andando il mondo, cosa che non vorrei mai fare, mai arrivare a dire a fare, io credo che l'unica cosa è fare quello che ci rende gradevoli alla vita. Quello che ci rende gradevoli alla vita. Capisci? È un bel mestiere questo, non è facile. Perché tu hai detto tre o quattro cose, il tè verde, l'incenso, tutti i tuoi sensi, che ti danno la cura. Fanno parte di un'esperienza di retto. Ma certo, ma certo. Ma io, sai, modestamente potrei stare qui un'ora a parlare dell'incenso. Perché, intanto perché ho un odore ancestrale, perché io seguivo mia nonna a messa solo perché c'era l'incenso. Del resto non me ne poteva fregare di meno. Poi facevo anche delle cose schifose, tipo nel banco della chiesa c'erano dei chuigam che chissà chi aveva lasciato. Io li rimangiavo proprio per dimostrare la mia alienazione a quel mondo che invece mi seduceva quando arrivava a questo, questa nuvola straordinaria era meravigliosa. Era forse un'esperienza quasi da droghe. Ecco, poi quella roba là la cerchi. È come una specie di chimica sottile, sotterranea, che poi a un certo punto della vita dice come mai ti piace l'incenso, per esempio, dei preti ortodossi. Io c'ho un mio amico che stava in Grecia che mi invitò al battesimo di suo figlio, il rito ortodosso. Era una roba meravigliosa. A parte che i bambini li fanno proprio entrare dentro tutta l'acqua fino a qua, non è che gli danno il goccetto, cioè tutta sta roba, il bambino che urla, tutti che ridono, e poi arriva sto prete con la barba fino a qua, con la cosa sopra. E' bellissimo, però poi... Allora, questa cosa qui è una ricerca, è una ricerca di bene, di ciò che ti fa star bene. Cosa costa una nuvola d'incenso? È vero. Non è che la paghi con la carta di credito. È vero, è verissimo. Si deve andare dietro quella nuvola là, e tu l'hai fatto, ti sei salvato. Ma è quello che dicevo prima, che le cose su me che contano nella vita non sono quelle facili, sono quelle che ti sfidano, e prendere un volo, andare da un'altra parte, andare dove non sei mai stato, a fare cose che non hai mai fatto. Però io ritorno ancora un attimo su questo punto, e le spiego anche perché. Io ho una figlia che ha quasi due anni, e quando mi guardo intorno, come diceva lei, questa è una realtà che di problemi ne ha e sono evidenti, ma non dobbiamo lasciarci andare alla disperazione, sono assolutamente d'accordo con lei, in questo senso. Però quello che a volte mi chiedo è, come farò quando lei sarà più grande, a far sì che lei riesca a comprendere che la vita va vissuta come un'esperienza diretta, e non va vissuta come un'esperienza di seconda mano, perché io il problema più grande che vedo nei giovani è questo, è il fatto che con questa tecnologia noi sappiamo tante cose in maniera indiretta, ma questo non potrà mai sostituire il salire su un taxi a New York, l'andare a parlare con un monaco buddista in Thailandia, andare in un albergo nel sud dell'India. Queste esperienze però vengono sempre meno, e quello che vorrei provare a trasmetterle, io credo che, forse l'ho sentita dire anche da lei questo, che i bambini non ascoltano tanto, ma guardano quello che fai, guardano l'esempio. Noi la stiamo facendo viaggiare tantissimo, quindi magari crescerà con questo, però magari anche qualcuno che ci ascolta pensa, io anche ho dei figli, e vorrei anche io che i miei figli non stessero su TikTok a guardare il mondo, ma partissero per il mondo. Lei ha un consiglio, una parola da dare ai genitori, affinché i figli siano anche miserabili, come ha detto prima, cioè che siano miserabili in questo nuovo senso che lei ha descritto. Perché sappiano di esserlo miserabili, perché quando lo sai, allora cerchi qualcosa per non esserlo più. L'unica cosa che può fare una persona come me è non dare consigli. Questa è molto zen, questa frase è molto zen. Forse alla fine sono zen. Sì, 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 penso che è molto zen questa frase. No, nel senso che è più elementare, che è la cosa che quando mio papà partiva il treno di notte, io accompagnavo la stazione, io non sapevo cosa facesse, avevo capito che c'era una roba di ferro che lo portava via. Però io non ho mai pianto, non sono mai stato triste, ho sempre cercato di analizzare questa cosa. infatti la sua valigia, l'ho sempre tenuta con me, questa valigetta che si portava via per poche notti e andava a lavorare. Per me era logico andare a lavorare non sotto casa. Ma questo non vuol dire che il barbiere sotto casa è un deficiente, il tuo padre è un genio. È che tutti e due viaggiano. Certo. Uno facendo la barba e ascoltando il signor Rossi che parla di calcio, mio padre è andando a prendere un treno. In partenza è uguale, poi quello che elabori è molto diverso. E allora un figlio è una spugna, in ogni caso, anche del nulla. Anche del nulla. Anche del nulla. E quindi forse conviene dargli dell'inchiostro perché diventi blu. I colori, per esempio, sono cose, sono iniziazioni emotive, perché le fiabbe sono piene di colori. Bianca, neve. Cappuccetto, rosso. È pieno di colori. Il mondo della fiaba evoca una fantasia e non hai più paura di quella fantasia. Poi cosa farà tua figlia a 25 anni? Boh, non lo so, non lo puoi sapere, non lo devi sapere. Non lo voglio sapere. Non lo devi voler sapere. Esatto. E ognuno, sai, Fellini, quando aveva capito che alla fine dei suoi giorni un suo amico gli diceva ma tu non hai paura di morire? A lui rispose ma no, anzi, voglio vedere come va a finire. Cioè, l'idea è che fino alla morte sei curioso. Esatto. No? Fino alla morte, proprio che sta arrivando, che bussa la porta, sei continuamente curioso di qualche cosa altro. Esatto. No? È proprio, è la stessa frase che disse anche uno dei miei riferimenti, soprattutto quando ero giovane, Tiziano Terzani. Meravigliore, l'ho conosciuto. Ah, l'hai conosciuto? Certo. E lui appunto, parlando della morte, visto che sapeva di avere poco tempo a disposizione, disse se non sono impaurito dalla morte, l'unico dispiacere è in quanto giornalista non poterla raccontare. Però a parte quello non vedo l'ora di vedere che cosa succederà. Ed è quello spirito del viaggiatore, forse, poi se al giorno d'oggi si parla tanto di viaggiatori come di quelli che hanno visitato 50, 100, 200 paesi del mondo, ma alla fine il viaggiatore secondo me si vede più che altro nello spirito, nell'animo, nel modo in cui una persona sta al mondo, nella curiosità che ha nei confronti dell'ignoto, di quello che non conosce. Infatti, proprio perché ho questo rispetto verso l'ignoto sicuramente non vorrò diciamo, essere io a delineare la strada per mia figlia. Però ecco, una cosa secondo me, una minaccia che io vedo, un pericolo, è proprio questo, è perderci, per usare la sua espressione, i colori del mondo. Cioè, vivere queste vite che sono bidimensionali, che sono su uno schermo, che sono spente e nel frattempo tu sei lì a vedere qualcosa lì sopra e ti perdi la meraviglia che c'è intorno. Poi magari con la meraviglia la vai a vedere e la condividi anche perché alla fine sono strumenti che hanno anche delle funzioni positive. Però quella era un'esperienza, cioè un pensiero che ho e su cui rifletterò, però mi ha dato degli ottimi spunti. No, ma è... hai citato persone che hanno interpretato il loro modo di vivere, non solo di fare professione. Tiziano, uno, Oriana Fallazzi, un'altra. Cioè, persone che cercavano di fare non per sbalordire, non per diventare, inventarsi la clac del momento, come fanno gli influencer adesso, i dementi. Invece è interessante fare una cosa che poi diventa influenzante. Certo, che si sviluppa strada facendo. Ma non perché tu parti pensando che lo sia, perché se no è come pensare di essere intelligenti, è il primo atto della tua stupidità. Funziona così. questa è una frase molto zen. Anche questa? Sì, sì, assolutamente. Non riesco a dire niente che non sia zen. Ma questo è molto zen. Molto zen. Io più interrogavo questo maestro e meno mi dava risposte. Diceva sempre tu uscirei da qui, se tutto va bene tu uscirei da qui con le giuste domande. Se ti aspetti delle risposte allora è una perdita di tempo. Puoi anche tornare da dove sei venuto. Perché nel buddismo zen c'è questa idea che la mente è perfetta e la mente è vuota, detta anche mente del principiante o mente del bambino. Non vuota nel senso che c'è una testa di legno ma nel senso che hai una mente che è sempre pronta ad accogliere. Se però tu hai una mente piena di pregiudizi, opinioni, di certezze tu non puoi più accogliere nulla del mondo. Quindi le sue risposte erano sempre delle non risposte. Era un modo un po' di portarmi nella posizione di trovare le mie risposte da solo perché altrimenti è tutto inutile. Ma posso chiederle come ha conosciuto Tiziano Terzani? No, per caso non mi ricordo era già credo malato a Firenze. è venuto una mia amica che mi portò a questo credo di ricordare che fosse Palazzo Vecchio per una perché lui era toscano quindi gli avevano dato un'onorificenza mi ricordo tutto vestito di bianco molto sì un po' come a lei però bianco perché era bianco di capelli. Mi ha sempre molto stimolato quell'uomo poi era un uomo iconoclastico questo è bellissimo cioè se la norma è un'icona bisogna essere iconoclastici perché bisogna andare contro e lui ha fatto qualsiasi cosa pur di non fare quello che tanti altri fanno anche gli inviati in giro però con l'albergo a 5 stelle col breakfast alle 9 di mattina con l'intervista organizzata beh lui ha fatto un altro mestiere e infatti lo nominiamo tanti altri purtroppo è verissimo quello che ha detto la via poi recitavo le teste di legno è terribile quante ce ne sono però c'è una fortuna che le teste di legno galleggiano e quindi le puoi individuare quindi restano in superficie per quel motivo sono sempre in superficie non vanno né sopra né sotto stanno in quella mediocrità che si meritano e quindi bisogna svuotare le teste per poi riempirle di qualche altra cosa che non hai previsto bellissimo guardi io avevo un'ultima cosa che mi sarebbe piaciuto chiedere proviamoci esatto proviamoci lei parla spesso alle nuove generazioni io ho letto anche i suoi libri ho ascoltato varie cose va nelle scuole parla ai giovani e penso che sia bellissimo perché alla fine lei sta lasciando anche un seme che probabilmente germoglierà tra molto tempo magari anche come è successo anche con Tiziano Terzani ma io ho una domanda un po' diversa dalle solite alle persone della sua generazione che si trovano nella sua fase di vita c'è qualche tipo di spunto che vuole lasciare c'è qualche come essere in questa fase della sua vita perché magari questo può essere molto di ispirazione anche per una persona molto più giovane ma io credo che devi essere stato molto poroso da giovane e poi ridare tutto quello che hai assunto alla gente che in qualche modo è assetata io ogni volta che incontro dei ragazzi che vengono io ho inseguito i ragazzi da giovane perché andavo nelle scuole adesso ci vado meno per la semplice ragione che i ragazzi vengono da me e questo è il secondo tempo della partita è tutto qui quelli che vengono da me hanno sete non tutti vengono certo ma non devi contarli e come la fa sentire questo il fatto che i ragazzi potrebbero essere sono impossibile però anche un incitamento alla follia anche quello è un rischio quindi certo essere nella sua posizione è un rischio è un rischio migliore che tu possa correre nella vita assolutamente molto bello ha detto essere porosi essere stati porosi in passato e poi rilasciare quando si raggiunge una certa età funziona così molto bello credo che molte persone nei 50 60 70 80 non si rendano conto forse anche perché intorno non vedono quella risposta che ha lei però non si rendono conto che potrebbero dare molto anche semplicemente condividendo quella che è la loro esperienza di vita trovo tante persone di una certa età che o giocano a restare eterni giovani ho letto un capitolo anche del suo libro in cui parla di quel miliardario americano che sta facendo di tutto per non morire oppure ci sono quelli che sono un po' abbattuti cioè arrivano a 60 70 80 anni dicono non mi ascolta più nessuno io ormai non trovo più un posto nella società soprattutto poi in pensione e invece è molto bello quello che ha detto cioè si arriva a un certo punto nella vita in cui quello che tu hai fatto tuo è arrivato il momento di darlo e gli altri poi lo colgono penso di sì penso che ti riconoscono l'idea di essere libero di essere intellettualmente onesto di essere abbastanza eretico per morire tardi che ha detto delle cose che possono appartenere a chiunque perché lei poteva dire in riferimento a se stesso essere una persona di rilievo famosa di successo stimata ha detto cose che chiunque ci sta ascoltando può assolutamente avere può sviluppare anche in un'età più avanzata della vita mi piacerebbe che questa chiacchierata fosse vista da qualche ragazza commentata da qualche persona anche più giovane di te mi piacerebbe anche a me ma sicuramente sarà così grazie di cuore è stato un piacere grazie grazie a tutti grazie a tutti